Ciao, mi chiamo Ilaria. Oggi è il mio compleanno. Ma sono sola. Nessuno dei miei amici è venuto alla mia festa. Questo è solo uno dei tanti scherzi che mi fanno. All'inizio pensavo fosse divertente, poi però, scherzo dopo scherzo, battute che diventavano sempre più insulti, ho iniziato a rimanerci male e a soffrire. Mi chiedevo se fossi io il problema. Il mio corpo, il mio modo di vestire. Ho provato a farmi accettare per quella che sono, ma nessuno mi voleva davvero come amica. Mi sono chiusa a me stessa. Ho accettato passivamente tutto questo bullismo. Ma oggi ho capito che non sono in difetto. Dimenticherò quegli amici e mi amerò sempre di più. Troverò persone che mi vorranno bene, per quella che sono. Grazie. Grazie.